Posso dire nei riguardi delle donne e del loro lavoro è che riescono veramente più degli uomini ad essere partecipi in quello che si prepongono, cioè essere nel loro mettiere molto professionali e molto sensibili, cioè avere cura di pazienti, penso che una donna lo abbia in modo diverso rispetto a un uomo, non perché mi voglia sentire diversa, ma è una sensibilità che si ha completamente diversa.